E' bello questo. Che sarà il municipio? Come municipio? Fai tu che dici? Questa deve essere la scala di Milano. E dove sta? La che? La scala. E starà dentro, no? Ah, è bello, sembra vero. Come sembra vero? E' vero, questo è un austrino etrusco. E' un mezzo vale. Un mezzo vale. E beh, dici credi, sto paese è così grande che io non mi raccapezzo. Ma come si fa? Bisognerebbe trovare qualcuno, che so, per sapere l'indirizzo di questa Marisa Floriana. Dove andiamo a quel militare là? A quello? A che stai pazzo? Quello deve essere un generale austrico, non lo vedi? Eh, va bene, siamo alleati. Siamo alleati? Già, è vero, siamo alleati. Siamo alleati. Andiamo. Vieni. E scusi. E scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì. Eh, sono di qua, perché? Ma c'ho pa' per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Eh, ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, se no perdo il filo. Dunque, escusimi. C'è che? Noio. Ha capito. Ha detto. Dopo ti spiego. Noio volevano, 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 savoir. Noio volevano savoir l'idriss. Eh, ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate. Dunque. Ma dove credevate di essere? Siamo a Milano qua. Appunto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Andare. Per dove dobbiamo andare. Andare. So, è una semplice informazione. Sentite. Sì, sì, sì. Se volete andare al manicomio, vi accompagno io. Sì, signore. Sì, signore. Non ha capito una parola. Sai che facciamo? Questa è la piazza principale. Sediamoci qui, quella qua passa. Ma che se ne passa? Signore, vedete che è un paese. Questa è una grande città. E allora come facciamo? Vieni con me, ci penso io. Vieni con me. E qua, che è quello? E quello sarà un arco di dito. Non è pericoloso. Ma che è pericoloso? È quello così alto. Non è pericoloso.